Il terzo punto all'ordine del giorno, approvazione, nuovo regolamento di contabilità. Grazie a tutti. Ora andiamo a trovare il nuovo regolamento di contabilità che va a sostituire il precedente in virtù dell'introduzione di nuovi dispositivi, lecce e normative con cui il nostro terzo regolamento non è più conforme. È stato adottato un nuovo regolamento aggiuntato con un nuovo quadro normativo sopravvidenziale in particolare all'articolo 152 del 1,4 del redoreggio 267 del 2.000, nella seconda parte del tour e garantisce le sue caratteristiche, in particolarità, la correnza con un quadro normativo sopravvidenziale economico e principi contatti del generale dell'articolo, di cui a capire il legislativo 118 del 2011 e successive qualifiche e interazioni, non ultima quella del 2014, la del 2010, se non parlo. È stato preso corso anche per le deconcerazioni delle peculiarità e la specificità dei denti nel rispetto dell'unità giuridica e economica dello Stato e dell'associenza di coordinamento della finanza pubblica. Assicura il passaggio dal rispetto delle prete informali al raggiungimento degli obiettivi sostanziali. Assicura il rispetto delle competenze degli obiettivi porti nella gestione del bilancio secondo i principi di flessibilità gestionale di separazione delle funzioni. anche i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione paracopalente e flussi essenziali del crescente di legatità. Viene quindi proposto di approvare il nuovo risultamento di contabilità distribuito senza l'articolo 152 del testurbo degli enti locali, conforme a livello legislativo del 3 giugno dell'esercito 18 successive modifiche e integrazioni si comportano di 178 articoli che sono legati al presente deliberazione e formano parte di un'esercito sostanziale. Viene trasmesso in questo progetto il responsabile di sempre che si viene pubblicato sul sito con i risultati sottolineati che da quest'anno sono state variate le regole pubblicati del del bilancio dei consigli comunali. Ci sarà tutta un'attività che formalmente porta ai cucini di contatto, non si può rifarsi ai vicini di contattoria ma anche ai vicini di cazza. Anche l'attività che è certamente straordinaria che è stata fatta dal precedente Consiglio comunale che entra in questa materia così come l'istituzione del nuovo bilancio che avremo da trovare da qui a qualche giorno dei fondi di credito in cui il bilancio di succedibilità. Ma di tutto ciò ci sarà un modo di discutere a sospondire il Consiglio comunale per dare la presenza delle canzioni del Consiglio comunale in sé di approvazione del bilancio di preghi scuole del 2015. Grazie. Grazie. Signor, non ci sono un po' scritto alla cosa. Il testo era un senso di attività. E' un senso di attività. E' un senso di attività. Grazie. ... ... ... Grazie a tutti.